Musica Vive Food Attraction 2024 continua, siamo nel mondo del food, nella sezione dedicata agli alimenti, alla produzione e distribuzione di alimenti, a disposizione del food service e dell'Oreca e siamo allo stand di Menù SRL. Qui con noi c'è Federico Masella, il responsabile marketing dell'azienda. Federico, un gran piacere rivederti dopo un anno. Buongiorno, piacere mio. Federico, dopo un anno c'è tanto da raccontare e tra poco ci arriveremo. Nel frattempo però facciamo il nostro riepilogo tradizionale sulla storia di Menù. Menù è un'azienda tutt'oggi familiare, di proprietà della famiglia Barbieri. Nasce nel 1932 come salumificio e poi durante l'immediato dopoguerra inizia la trasformazione di quello che oggi siamo, quindi a tutti gli effetti una industria alimentare, dei produttori di specialità alimentari dedicate alla ristorazione in generale e oggi leader di produzione proprio in questo comparto. Oggi qui a Beer Food Attraction 2024 avete un bel po' di cose da presentare al settore food service. Da dove cominciamo? Ma comincerei innanzitutto da Frulloro, continua la campagna di degustazione e comunicazione di questo straordinario prodotto. Frulloro è un nostro marchio registrato, un prodotto estremamente innovativo nel panorama dei rossi. È un frullato, il vero, primo, unico frullato di pomodoro fresco realizzato per le pizzerie e per la cucina. In seguito abbiamo presentato proprio qui a Beer Food Attraction un ampliamento della nostra linea Evolution Fresh che comprende pesti e salse lavorate a freddo, quindi non pastorizzate. I due nuovi nati sono il pesto alla genovese vegano, quindi particolarmente adatto appunto per chi vuole seguire una dieta 100% vegetale e il nuovo pesto di aglio orsino, una vera chicca realizzato appunto come un pestato ma anziché utilizzare il basilico utilizziamo questa pianta straordinaria chiamata aglio orsino perché ne sono guiotti gli orsi quando escono dal letargo per rigenerarsi. Anche in questa occasione le novità sono tante e il vostro catalogo si ingrandisce sempre di più. Federico, voi avete una rete commerciale estremamente ampia, capillare, davvero riuscite a coprire tutte e venti le regioni italiane, però io dico sempre che c'è la maglia che si smaglia, che c'è il cliente che dice oi boh ma io quasi quasi vorrei entrare in contatto con MenuSRL e non so come fare. Lo so, magari potrebbero apparire un po' sprovviduti perché basterebbe cercare su internet ma aiutiamoli, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica oppure una URL di un sito dove poter visionare il vostro catalogo e nel frattempo anche scrivervi, mettersi in contatto con voi. Certamente abbiamo una delle reti commerciali più vaste e devo dire anche siamo orgogliosi di avere i migliori professionisti del settore oreca in ambito food, quindi i nostri agenti sono capillari sul territorio pronti per dare consulenza ai nostri attuali clienti e potenziali nuovi. Per chi desiderasse appunto mettersi in contatto con noi, Menu è chiaramente presente sul web www.menu.it, un sito estremamente aggiornato. Siamo presenti in tutte le principali piattaforme oreca, social e chiaramente per chi ci vuole scrivere via mail può scrivere a marketing.menu.it, Menu senza l'accento sulla U. Naturalmente, magari anche per proporsi come collaborazione commerciale perché voi siete sempre alla ricerca di nuovi addetti alle vendite, dei professionisti che vogliono entrare a far parte della vostra squadra. Sì, come dicevo abbiamo una vasta rete commerciale, però siamo comunque sempre alla ricerca di anche agenti giovani che vogliono intraprendere questa professione estremamente stimolante. Abbiamo area chiaramente ancora libere in Italia, il mercato è ampio e c'è ancora tanto da fare, quindi insomma per chi vuole affrontare una nuova sfida noi siamo a disposizione. Federico Mazzella, responsabile marketing di Menu SRL, grazie. Grazie a tutti voi, buona giornata.